Musica Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video Oggi parliamo di una cosa tanto attesa Ogni volta che faccio il podcast on my phone Poi di conseguenza, pochi giorni dopo, pochi settimane dopo Vi giro anche le cover Ho il telefono nuovo da relativamente poco Comunque lo sapete, vi ho fatto già altri video a riguardo Se volete ve li lascio nella scheda info Quindi ho pochi cover, però devo dire che sono tutte carine E in più c'è una super chicca che vi dirò all'inizio Così potete sentirla tutti perché so che poi c'è qualcuno che chiude il video O lo schippa, quindi ve lo dico subito Non schippatelo perché c'è una cosa molto molto carina Che vi ho già detto in un vlog un po' di tempo fa E su Instagram, però non vi ho ancora detto per bene, per benino tutto quanto Quindi iniziamo subito con questa cosa misteriosa Ci sto lavorando da più di un anno e mezzo E finalmente è qui nelle mie mani E sto parlando della mia linea personalizzata di cover In collaborazione con Shop Go Case Che mi avete sentito nominare un sacco di volte Perché a parte le mie che sono, vabbè, fantastiche Ce ne sono tantissime altre E quindi vi faccio vedere le mie babies Perché sono ben tre diversi design Che abbiamo fatto insieme io e i grafici appunto di Shop Go Case Sono tre temi che mi rispecchiano molto Sono tre delle mie passioni più grandi E voi siete impazziti letteralmente quando ve le ho fatte vedere Perché piacciono tantissimo anche a voi Quindi prima di tutto vi lascio il link per l'acquisto Qua sotto in info box sono ancora scontate Quindi approfittatene E poi soprattutto se le prendete appena vi arrivano Taggatemi su Instagram Non lo so dove volete Perché voglio sicuramente vedere E voglio poi sentire il vostro feedback Quindi ve le faccio vedere subito La prima che vi mostro è questa qui Come vedete la particolarità di queste cover Sono che hanno il retro trasparente Sono di silicone morbido Super ottimi i materiali Infatti sì hanno un prezzo elevato Tra virgolette rispetto alle altre che si possono comprare Ma c'è un motivo Quindi appunto questo è il primo design Che rappresenta logicamente la sirenetta Un pochino più cartonizzata Con tutte le varie conchiglie Stelline Ed è splendida Identica a come sta sul mio tatuaggio Poi abbiamo questa qui Che è sempre ripresa da uno dei miei tatuaggi Vedete il rossettino così Non so se notate la stampa Quanto è fatta bene E anche qui ho scelto tutto io Makeup is my art Perché è la realtà Quindi ho voluto rappresentare un po' Questo mondo Il mondo del make up Che ci accomuna un pochino tutti Se mi seguite ormai lo saprete E l'ultima Che è quella che forse vi è entusiasmato un po' di più Come vedete qua c'è il sushino E quindi ho voluto riprendere una cover Con una delle mie più grandi passioni Cioè il sushi Questa è quella su cui abbiamo lavorato un po' di più Perché all'inizio mi avevano proposto un disegno Poi io l'ho fatto cambiare tipo 3-4 volte E alla fine è venuto fuori questo Che mi stra 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 piace Come vedete c'è un nigiri Qui abbiamo un uramaki che si fa il bagnetto Tutto tema salmone Come piace a me Le bacchettine Il cuore Questo è qualcosa di assurdo Ed è una di quelle che sta andando di più sul sito Quindi sono felicissima E niente Quindi queste sono le mie 3 cover Sono super super proud Sono proprio una proud mommy Spero di poterne fare altre in collaborazione con loro Vi ripeto trovate tutti i riferimenti qua sotto Fatemi sapere se le comprerete Se le avete comprate eccetera eccetera Io mi sono sempre trovata da Dio con il loro cover Infatti ne ho altre a farvi vedere Che potete sempre trovare sul sito Una è questa qui Che fa parte della collezione dei segni zodiacali Io non so se lo sapete Sono nata il 22 aprile E quindi sono del toro Che tra l'altro mi rispecchia non tanto di più Tra l'altro un tema con il mio trucco di oggi Che è sul tono del viola Quindi appunto questa del Taurus E poi ne ho un'altra Che è troppo cute Questo è molto molto elegante Che potete personalizzare con il vostro nome Con scritto qualsiasi cosa Io ci ho fatto scrivere Ilaria Con questa stampa che è carinissima E qui abbiamo tutti i cuoricini di vari colori Che vanno poi vedete a sfumare Queste sono tra le mie preferite Perché non si rovinano neanche a farlo apposta Ed ora passiamo al resto delle mie cover Che devo dire ho preso Un po' lì un po' qua Adesso vi dividerò per categorie La prima che ho preso da Amazon Che avevo su quando ho girato il Whatsapp Me l'avete chiesto in tantissime Ed è stata la prima che ho comprato Infatti l'ho presa su Amazon Ed è una semplicissima cover trasparente Di silicone Duro Sentite quanto è dura Infatti è super resistente È molto 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 carina E io ci ho attaccato questo PopSocket O SoftPocket Oddio regà non mi ricordo mai come si dice Forse PopSocket Vabbè Che invece ho preso su Aliexpress Qua sotto in info box Vi metto tutti i link Sia appunto delle mie Sia di quelle di Aliexpress Sia di quelle di Amazon Cerco di ritrovare più cose possibili E questi vabbè sono comodissimi Perché io lo tengo così Anche per non farvi cascare il telefono in faccia Se magari state sul letto distese E tenete il telefono Poi vi faccio vedere Queste due cover qui Bianca e nera Che mi sono state inviate Da una paginina su Instagram Che io adoro alla follia E si chiama Chic Chic.5 La trovate così E sono delle cover simile Apple Raga che ve lo dico a fare Sono identiche Qui ho quella del mio vecchio telefono Che è originale Apple Ma non so se riuscite a notare Ma non ha nulla a che invidiare Forse cambia leggermente Il tessuto dell'interno Ma è comunque morbidino Quindi non va a graffiare o rovinare la cover Però il materiale esterno è identico Poi sempre dalla stessa paginina Questa qui in silicone È invece morbido Tutto effetto marmorizzato Quando voglio essere un po' tumblr Poi sempre da una paginina di Instagram Che si chiama Checo Love Ho preso Questa che è sempre simile Apple Però è di questo celestino La qualità è molto 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 simile all'altra E poi ho preso questa Che è una cover Di quelle magnetiche Vedete Alla parte superiore Che è magnetica Non la metto tanto Perché è super liscia E quando la metto tipo nei pantaloni Sfugge Quindi ho pure di perdermi tipo il telefono Però è una figata A parte questo E poi faccio vedere invece Queste quattro Che ho preso da AliExpress Partiamo da questa che ho su Perché ho ricevuto Non tante domande di più Perché anche questa Io non lo sapevo Ma assomiglia ad una Dell'Apple Che ha tutti questi Vedete tipo triangolini 3D Che sono soltanto interni Infatti qua è La superficie è liscia Questa qui in particolare Ha il colore rosa Però l'ho comprata Anche bianca e nera Mi deve arrivare E costa tipo un euro E qualcosa Una cosa imbarazzante Ha un materiale bellissimo Perché vedete È in silicone Ma è resistente Poi ho comprato Queste due Che sono semplicissime Hanno purtroppo Lo stesso problema dell'altra Che sono troppo lisce Infatti Dovrò comprare Degli altri popsocket Da attaccarci Perché altrimenti Io queste Non le so gestire Comunque l'ho presa nera E turchese E poi L'ultima Che è questa Non saprei descrivervi L'effetto Se è tipo un marmorizzato O più un vetro Comunque È sempre la parte qua Morbida Perché io quelle dure Non le sopporto È rosa Logicamente Ed ha appunto Tutta questa trama dietro Che sembra Sì tipo un marmo Non lo so Bellissimo 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 È super cute Princess Quindi Queste erano Tutte le mie cover Ci sarà sicuramente Un update Più avanti Ma ormai Non sono più tanto Accumulatrice seriale Di cover Come lo ero Qualche anno fa E chi mi segue Da tanto lo sa Prima ne avevo Tipo una quarantina Adesso mi tengo Su una decina Dai Ma accumulo altre cose Non vi preoccupate Questo non cambia Detto ciò Io spero Le cover Che vi ho mostrato Vi siano piaciute Ripeto Trovate tutto sotto Nell'info box Comprese anche Le mie tre super cover Meravigliose Che non so bene Fin quando Terranno sul sito Quindi Io vi consiglio Di andare subito A dare un occhio Se vi interessano Se volete fare Qualche regalino carino Visto che si avvicina A Natale Così Io ve la butto lì Detto ciò Se il video vi è piaciuto Pollice in su Iscrivetevi Se ancora non lo siete Io vi mando Un grosso bacio E vi aspetto al prossimo video Ciao Ciao